ma da quello che c'è scritto abbracciami dietro abbracciami che abbracciam key soft ma che paghi è napoletano e paghi tutto cosa da te non è inutile che ti atteggi potete dare il tempo martina ti è mai capitato che un orecchino ti si incastrasse in un pelo pubico da fare queste cose secondo me ma martina ti è mai capitato che un orecchino ti si incastrasse in un pelo pubico no 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 ti amo interessante ti amo bestemmia no no ha detto anch'io no anch'io ogni tanto ogni tanto no no non avevo capito mi piace bestemmia mi piace e porco dio mi piace mi piace parco dio